E' stato dirottato in panchina dal tecnico Hitzfeld e questo è lo schieramento del Borussia Dortmund con Klaus, Sammer, Lidoro. Poi vedete la linea dei quattro difensori, Zorc, Frohn, Müller, Erlich e Treschko. Poi ovviamente per quanto riguarda la posizione di Treschko ne parleremo con Salvatore Bagna. Eccola qui, la Juventus schiera Peruzzi, poi Ciro Ferrara, Gianluca Pessotto con il numero tre, e tanti debuttanti in Coppa dei Campioni, Moreno Torricelli, poi Sergio Correni, Paolo Sousa, Angelo Di Livio, fresco di Nazionale. Siamo al capitano che è Antonio Conte per la prima volta, poi Michele Padovano, Alessandro Del Piero e Vladimir Jukovic. Ha fatto nella partita di domenica nel secondo tempo, gioca a destra lasciando Ferrara e Porino centrale. Il campo di Borussia subito in attacco contro Treschko, poi è Müller e gol! Gol! Dopo 36 secondi, Andy Müller porta in vantaggio il Borussia Dortmund. Una doccia davvero gelata per Marcello Lippi. Sorpresissimo anche il portiere Peruzzi che vedete che è sceso in tempo con una leggerissima protezione al naso dopo un infortunio partito domenica. E Andy Müller segna ancora una volta il gol dell'ex, così come aveva fatto lo scorso anno in Coppa Uefa. Esattamente, c'è stato un cross di Treschok sbilanziato, Ciro ha lasciato la palla ferma, è arrivato con un gran tiro di sinistro a rientrare verso il palo lungo. C'era un po' di effetti in questo tiro che Peruzzi purtroppo non ha intuito e la palla è entrata, ha già segnato l'ex. Si vede la quest'azione, si rivede il cross di Treschok, Ciro è sbilanciato, troppo avanti rispetto al pallone. Arriva Müller che si sa, ha un gran tiro e non perdona anche con qualche sicuramente titubanza di Peruzzi. Juventus che deve ancora proporre delle valide soluzioni offensive anche se c'è stato il più che apprezzabile pallonetto di Antonio Conte. Sicuramente il Dortmund è una squadra che lascia spazio, ci sarà la possibilità di giocare. Ecco la bellissima conclusione, gol! Padovano sul cross dalla sinistra di Del Piero ha colpito la palla di precisione, di giustezza, di misura. L'ha infilata all'incrocio dei pali battendo il portiere close. Due che pareggio della Juventus grazie al dibuttante Michele Padovano che non aveva mai giocato in una competizione europea. 1-1. E bravo Padovano, qui si ripete il cross a rientrare di esterno di Del Piero. Padovano colpisce ma Sammer è molto lontano, l'avevo già detto prima, lasciano molto spazio ai giocatori della Juve per manovare. Qui niente da fare per close. La palla di Padovano va a finire praticamente all'incrocio dei pali. Vediamo tre ciocche. Non ce la fa superare. Jugovic, pallone recuperato da Sousa. Lancio stupendo per Del Piero in posizione regolare. L'avanzata di Del Piero. Uno contro uno con Kohler. Ancora Del Piero. Cerca lo spazio per il tiro. Ancora Del Piero. E il suo pallonetto. Un gol stupendo. Un gol incredibile da parte di Del Piero. Alessandro Del Piero pareggia, anzi segna un altro gol e porta in vantaggio la Juventus. Un gol stupendo. Ci siamo emozionati nel vedere questa prudenza balistica. Del Piero sa mettere il pallone dove vuole. Ed eccolo, Salvatore, il replay di questo gol stratosferico. Quando sembrava che avesse perso il tempo per il tiro, ha fatto due finta su Kohler. È stato incredibile. È stato un gol fantastico. Niente da fare per close. Su quella palla non ci arriva nessuno. Ma c'è da ammirare la tranquillità. Qui c'è una finta. Ritrova lo spazio. Vede close fuori. Cerca e trova un pallonetto fantastico. Un gol stupendo. Autore di questa conclusione completamente sbilenche. Io devo dire che il Borussia ha creato molto. Ma molto perché una mano gliel'ha data la Juventus. Anche in questo caso Torricelli non ha voluto buttare via la palla. Qualche volta si deve buttare anche in tribuna la palla. Splendida palla di Del Piero per Conte. De gol! Del Piero ha fiscato Conte in area di rigore. Tuffo di testa del numero 8 capitano bianconero. Ed è 3-1. Un gol stupendo. E nasce dall'iniziativa geniale ancora una volta di Del Piero. 3-1 per la Juventus. È bellissima ancora l'iniziativa di Del Piero. Che quando parte sulla sinistra è eccezionale perché non lo possono... lo devono aspettare. Devono aspettare la sua prima mossa. Qui il pallone è stato eccezionale. Conte è andato incontro alla palla e ha piazzato questo pallone alle spalle di Clos incolpevole. Tutto ancora molto molto bello. La Juventus ha segnato 3 gol splendidi. E vediamo ancora. Vedete Del Piero con la solita maestria. Pennella il pallone sulla testa della corrente Conte. Vedete la splendida conclusione in tuffo. Un'immagine emblematica di questa splendida serata della Juventus.